Ecco, benvenuti. Sicuramente due anni fuori dalle istituzioni, due anni in una, devo dire, battaglia combattuta per nome e per conto di quei calabresi che in novembre del 2014 hanno creduto in una sfida impossibile e che spesso ho definito una battaglia solitaria ma che ha visto ovviamente la stampa sempre attente e soprattutto non abbassare mai riflettori non su una vicenda che riguardava la mia persona ma su quello che dovrebbe essere un po' il leader dell'opposizione esclusa da un vulnus antidemocratico di una legge incostituzionale. Ovviamente quello che chiederò è che si approfondisca la situazione a tutti i livelli ma soprattutto oggi per me è un po' come il primo giorno di scuola, non sono un alunno in corso, non sono fuori corso, sono come una privatista che in qualche modo, ed è questo che dirò anche all'interno del Consiglio regionale, non ha studiato a casa ma ha studiato tra la gente. L'impegno ovviamente è di rappresentare il centro-destra, di rappresentare la coalizione ma di rappresentare i bisogni dei calabresi. Sarò un'opposizione senza sé e senza ma, soprattutto con la voglia di contribuire ma anche di oppormi e di non fare sconti. Spero che onorerò con il mio impegno quotidiano, con la mia determinazione, tutta la fiducia che mi è stata data, che è stata riposta perché sono convinta che la politica ha bisogno di riacquisire credibilità. Si riacquisisce credibilità quando ovviamente si premia il talento, quando si premia il valore e quando si premia quella calabria che può diventare ciò che è e per me non era soltanto uno slogan elettorale. Gruppo misto perché credo che come ex candidata alla presidenza il tentativo di far sì che ci sia un'opposizione unitaria ma soprattutto anche con quella volontà di rappresentare le tre liste in toto che mi hanno ovviamente appoggiato e quei tanti calabresi che hanno votato perché probabilmente si sono ritrovati nel mio programma ma perché no anche nella mia storia politica, personale ed umana.